Che cazzo pensi di fare? Un pezzo di merda! Mi hai ucciso! Non vedi che sei ridicolo? Ti metti a fare l'eroe adesso? Ti sei fatto fottere una ragazza sotto gli occhi? Sei rimasto lì immobile a guardare mentre moriva? E questo perché sei un senza palle? Non fai un cazzo, né come regista, né come uomo. Questo perché sei un ragazzino viziato e anche un po' cornuto, sì. Voglio fare il regista! Mamma, io voglio fare il regista da grande! Amore mio, non è meglio che vai a puttane?